e scegli la mia strada di sta ciappina benvenuti in questo nuovo video oggi siamo così in un video a caso prima però lasciate un bel po di giorni su iscrivetevi, fate cose, ecco che mi rompe le balle subito a quest'ora voglio raccontarvi un'esperienza che mi è capitata due giorni fa ormai è vero di tranquillo che mi stavo guardando le mie cose aggiorno una pagina di youtube in questo caso è questa qua e vedo zero iscritti ora, io avevo 250 quando è successo quindi non ne avessi tanti non ho tanti ma quelli che ho me ne sono sudati un po' me ne sono guadagnati mi sono fatto un po' il culetto e ho notato zero iscritti, ho detto ma me l'ha già successo, questione di un minuto magari ho caricato mai la pagina ed io ricarico la pagina e non va vado su social media per chi non lo sapesse è un sito dove si vedono i propri dati e qua all'inizio c'era 250 dove c'era 0 c'era 250 ora io mi sono preso male c'era 250 e beh, ho detto va bene allora che problema c'è? passa un po' di tempo dopo vedi, da di qua potete notarlo in basso a sinistra da 255 a 0 secco via così secco e andavo bene se n'ha successo qualcosa vado a vedere magari mi hanno buttato giù il canale e via mi hanno chiuso basta non so qua così da motivo così da lunga va bene non è nemmeno quello vado a provare a caricare un video perché volevo già caricarlo un po' di tempo fa ho detto carico non me lo fa caricare non ce l'ho quella pagina non l'avevo salvata però mi dava tipo le scimmie maestrate stanno risolvendo il problema le scimmie maestrate di stampina scusami che problemi mi dai dei problemi su una cosa così importante non è giusto quindi caro non mi fai a venire sti colpettini se passa un'ora se passano dieci minuti non si sistema passa mezz'ora non si sistema che cacchio devo fare stavo pensando di contattare l'assistenza e supporto a fare qualcosa venga un piccolo coccolino comunque iniziare da zero dopo quasi 165 video che c'ho e girerebbe un po' le bavette il fatto sta che sto tranquillo provo a ricaricare le due pagine e tutto in zero secco passa quasi un'ora e aggiorno e tornano gli iscritti ok meno male so contento però youtube non mi fai questi infartini che mi fai questi colpi che mi fai venire un infartino spero che sistemi se sono andato un problema non so se anche altri youtuber avuto altri youtuber abbiano avuto questo problema so tipo di omaio social che ho visto oggi cioè ieri non so quando uscirà il tuo video ieri che non gli contava zero visualizzazioni una cosa così cioè gli dava meno visualizzazioni lui è vabbè quelle visualizzazioni che fa lui io le vedrò tra qualche anno se va bene comunque si vabbè dai può essere quello che è capì ma meno un coso di scuse così no vabbè a parte gli scherzi youtube cerca di funzionare bene va che se no qua succedono casinetti ora sarà un video cortissimo molto probabilmente molto probabilmente non lo taglierò nemmeno domani dovrebbe uscire gta quindi fate un bel pollicione in su iscrivetevi fate cose andate sui social fate tutto questi problemi di youtube aumentano sempre di più così bug così ma un'altra volta mi è successo ma un'altra volta aggiornavi la pagina e tornavo di nuovo va bene un'ora un'ora che è l'ora più lunga della mia vita comunque ci vediamo al prossimo video un video corto giusto per informarvi sto bene voi state bene fatemelo sapere cosa mi stanno succedendo le vacanze e ci vediamo ciao a tutti